In questo tipo di anno vi salutiamo, voglio ringraziare l'organizzazione che è stata davvero carina con noi e le associazioni che ci hanno invitati, grazie di cuore, ringraziamo il pubblico e ringraziamo in particolare i fonici che sono stati veramente stupendi, grazie mille l'applauso che vi facciamo. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.